Per l'Ucraina è stata un'altra notte di paura e terrore con Mario Polo ormai ridotta allo stremo. Tra il coprifuoco a Kiev e la rivendicazione da parte del comando militare delle forze ucraine della liberazione di Makariv, arrivano le accuse di Mosca. Il governo di Kiev usa infrastrutture civili per nascondere missili e armi, ha riferito il portavoce del Ministero della Difesa, Igor Konashenkov, mostrando le riprese aeree effettuate durante il bombardamento nel centro commerciale, nel quartiere Poditsky. Cercando l'attenzione dei media occidentali, il portavoce del Cremlino ha dichiarato di aver presentato prove evidenti dell'uso da parte di Kiev e di edifici civili come postazioni di tiro. Al momento, le parole e le accuse avanzate dalla Russia non trovano riscontro ufficiale. I servizi di emergenza statali ucraini hanno nel frattempo rilasciato le immagini delle sue unità preposte a disinnescare ordigni inesplosi a Cerniv, a circa 130 km a nord di Kiev. Insieme a Mario Polo, la città è stato oggetto di pesanti bombardamenti dall'inizio dell'invasione russa.